Sono circa una ventina i dipendenti comunali di Piraino che sono stati costretti a rivolgersi al giudice del lavoro del Tribunale di Patti per chiedere riconoscimento dei premi relativi all'Istituto della Performance Individuale Organizzativa per l'anno 2015. Lo ha evidenziato il gruppo Piraino Giovane e Solidale che alcuni mesi fa evidenziò la necessità di istanziare le somme, circa 15.000 euro, per pagare la produttività ai dipendenti comunali. I consiglieri di opposizione hanno sottolineato ancora che l'esecutivo con delibera di giunta del 16 gennaio scorso ha autorizzato il sindaco a resistere nel giudizio promosso dai dipendenti comunali, assegnando circa 4.000 euro per nominare un legale che rappresenti il comune davanti al giudice del lavoro. È una scelta certamente scellerata, non condivisibile, che mortifica la fattività di quanti hanno contribuito con impegno a migliorare l'efficienza, l'efficacia e la qualità dei servizi comunali, hanno ricordato i consiglieri del gruppo Piraino Giovane e Solidale che appesantisce i pirainesi il nostro bilancio comunale di spese inutili, decisa in maniera dispotica da chi evidentemente riconosce maggiore importanza a qualche festicciola paesana, piuttosto che al lavoro e al benessere della nostra comunità. Il sindaco Maurizio Ruggeri ha replicato che questa vicenda si trascina dal 2015 e che in ogni caso il comune vuole procedere ai pagamenti. Nel corso della prima odienza in tribunale riferirà il giudice che il comune ha tutte le buone intenzioni per pagare, chiederà alcuni giorni di tempo per prospettare una transazione ai dipendenti e chiudere il caso.